No, volevamo avvisare, perché sembra che il sottosegretario non lo sapesse, il sottosegretario Borletti-Buitoni, che alcuni importantissimi beni qui a Roma, so che lei ancora non era stata messa al corrente dal Ministero, cosa piuttosto grave, tra cui la barcaccia, che è una fontana realizzata da Berlini nel 1600, sono stati messi a ferro e fuoco da tanti hooligans, Presidente, che hanno in pratica reso la nostra città, la mia città, la città anche di mafia capitale, un vero e proprio teatro di guerra, di battaglia. Volevo comunicare all'Aula e chiunque si voglia inserire e supportare, è ben gradito che abbiamo depositato l'ennesima mozione di sfiducia nei confronti di Alfano. Grazie, Presidente.